Come disattivare la modalità aereo su Windows 11 lo scopriamo in questo tutorial di oggi Hai attivato la modalità aereo e vuoi andarla a togliere, molto semplice Ti basterà semplicemente cliccare su questa icona ma può anche essere quella del volume E' uguale, non cambia niente Ti appena questo pannello che stai vedendo ora Devi individuare la scritta modalità aereo Io siccome sto utilizzando Windows 11 nella versione in inglese Troverò Airplane Mode, tu invece troverai scritto modalità aereo Troverai un'icona piccola di un aereo che vola Ci clicchi sopra, è tutta in blu perché significa che è attivata Se la vuoi diventare bianca sarà disattivata la modalità aereo Adesso provvedo subito a toglierla Ci clicco solo un clic solo, deciso ed ecco ho tolto la modalità aereo Togliando la modalità aereo tu torni ad avere internet Quindi il tuo web sul tuo computer portatile ho fisso Tornate a esserci Bene, ma che è molto semplice, non è complicato, non è difficile Detto questo, detto ciò Iscriviti al canale Narratore Italiano Commenta, fammi sapere come è andata Al prossimo video tutorial Ciao da Alejandro Al prossimo video